musica 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 Buongiorno Ehm Un video che piacerà da quelli maschietti Alla prova Le nostre doti visive In qualche modo E' questo il senso del video E' per vedere se ci vediamo bene E se abbiamo un buon intuito Perché qui abbiamo 12 star 12 fregne italiane esatto e dobbiamo dire se loro ce l'hanno rifatte oppure scoprire molto semplice allora le tette tanto che cosa per chiarire no vabbè che ne sono fatte rifatte no vabbè oggi è un po' noi ce la sentiamo molto striscia la notizia capito poi i nuovi mostri e noi faremo questa nuova e come vedete in primo piano c'è Anna Farchi tanta roba però è laziale allora a me non mi dispiace come cosa allora Anna Farchi io sapevo che era rifatta io sapevo che no eh come la mettiamo no però vedendo bene la forma non so rifatte non so rifatte no non so cioè è proprio me sa proprio di morbidezza capito che vabbè lasciamo perdere fai come me infilo allo spinolto andiamo a sfociare vabbè io farei vero vero e farei false io farei vero amma roba ciccio e cocco buttiamole giù sassoperte e formi dai pure ancora ci sarei 07 no troppo figo ma vabbè sassoperte e formi eh vabbè non di mora cinese fai sassoperte e formi sassoperte e formi dai false ah Laura Ghiatti secondo me è vera vera proprio dai si no io non vabbè adesso in questa foto si però mi pare che se l'hai rifatta lo sai cioè però non so se è in questa foto oppure in generale vera vera dai si comunque è vera asatta asatta porco mamma mia mamma mia e me c'ho a bere di fatta si io voglio poi Beyoncé eh boh c'ho idea eh io c'ho un dubbio a me son vere si pure per me son vere però boh nel senso c'è io sto abbastanza fissa con Beyoncé farei brutto io nel video però tipo che ne so quando fai video di dubballa ste cose qua non ripartano non ripartano cioè sono immobili cioè in un senso poi io mi affido a te non c'ho po' idea secondo me son vere ma te f*** son rifatte no sono vere sono vere si lo dico sono vere mi erano ognuno io ho un dubbio sinceramente eh sembrerebbero rifatte però boh però secondo me son vere cioè talmente esagerate che son vere secondo me ciò potrebbe di Frax che magari c'è stato vicino ci si è fatta anche la foto vedendo lui che mettiamo vere ormai tutti sono a fiducia vere vere Martina Colombari oddio rifatta mettiamo rifatta così perché abbiamo visto sempre dire penso che non è un'unica vera a lei però vabbè Belen Rodriguez rifatta oh sai che non lo so poi a me fa schifo vero vabbè questa è facile dai sono verissime troppo vere mamma mia vabbè Belen non lo so mamma mia che dici se entra vede qualcosa no come son fatte come son fatte beh son son fatte o rifatte son fatte una volta solo due volte eh cioè so 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 vere so vere dai si so vere a chi ha botto eh son rifatte dici si sicuro 100% va bene eh ma marrone so vere dai non mi pare che sei rifatta no so vere so verissime Elena Santarelli ultima so che questa sei rifatta però sono rifatte pure quella di Elena Santarelli eh tanto proprio quella di Elena Santarelli ora calcoliamo il risultato attenzione oh 12 eh abbiamo tolano di 6 7 quindi 5 l'abbiamo riconosciuto questo dice lunga sulla tua conoscenza di poppe silicone anatomia umana ricordali che l'abbiamo riconosciuto ben 5 segni rifatti e quindi non sapevo mai quali saranno quelle vere quelle rifatte no ah dici visto che qua non c'è scritto qua chi è rifatto e chi no esatto diteci secondo voi quali sono quelle che abbiamo sbagliato cioè quali sono rifatte e quali sono vere secondo voi che ne so pure una sola sapete perfettamente che la falchia è vera diteci che è vera magari come scrivi a fiata la falchia ma a mia mamma non c'è delle rifatte comunque a me vanno bene tutte quindi cioè tra queste che abbiamo neccato tutte vanno bene tranne tipo Belen agli altri queste cose qua però amore vabbè dai allora niente noi ci becchiamo al prossimo video e bella bella